La Giunta Municipale di Ragusa, considerato che per il 2013 è stato rispettato il patto di stabilità interno, ha deciso di deliberare gli importi dell'indennità di carica di sindaco e assessori senza la decurtazione del 30% che era stata operata per lo sforamento del patto nel 2012. Sindaco e assessori dunque hanno in otto deciso, con lo stesso provvedimento, di istituire un apposito fondo in cui versare mensilmente e ogni anno il 30% delle loro indennità e questo per promuovere iniziativa nel campo sociale ma anche di sostegno per l'attività scolastica. Con questa approvazione di delibera, dichiarato lo stesso sindaco Piccitto, si è deciso non tanto di applicare una decurtazione secca del 30% sull'indennità quanto una sorta di contributo volontario di pari percentuale che ogni componente di Giunta, ogni mese e nei diversi anni in cui resterà in carica verserà nell'apposito capitolo di bilancio istituito ad hoc. Vengono così destinate risorse concrete in ambito sociale e per il mondo della scuola. In questo modo, ha sottolineato il primo cittadino di Ragusa, abbiamo voluto condividere quando già fanno gli eletti del Movimento 5 Stelle sia a Lars sia al Parlamento.